Daniele Rocco, match win contro il campo d'Arsego, ci racconti l'azione del tuo incredibile goal in rovesciata? È stato bravo a forestana, a spizzarla in mezzo all'aria, io ho provato la rovesciata e per fortuna è andata bene. Con questa rete, ora il Cianniss Muzzane sale a 39 punti e siete un po' più tranquilli, classifica alla mano. Sì, ora siamo più tranquilli, si può lavorare più serenamente, vorrei dedicare questo goal ai ragazzi perché oggi è stata una partita difficile, è stata una battaglia. Che cosa vi ha detto mister Niki Pradolini al debutto in panchina? Ci ha chiesto di dare il massimo, credo che oggi si è visto, abbiamo cercato di ruotare su ogni paglione e abbiamo dato il massimo. Lo avete festeggiato a fine gara? Sì, abbiamo festeggiato tutti, siamo davvero felici con questo risultato. Prossima fermata, Cartigliano? Sarà una partita difficile, ci teniamo a far bene, lavoreremo bene in settimana per arrivare pronti a l'incontro. Grazie. A voi.